L'Ungheria sfida la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario Internazionale e approva una legge che riduce l'autonomia della Banca Centrale Nazionale. Il braccio di ferro mette a rischio una richiesta di prestito del paese a BCE ed FMI tra i 15 e 20 miliardi di euro. Per l'Istituto Europeo l'indipendenza della Banca Centrale è indispensabile. Nessuno può entrare nel processo legislativo del paese e la replica del governo.